Ci sono volute ore, ma alla fine un'enorme bomba britannica, residuata dalla Seconda Guerra Mondiale, è stata disinnescata. L'operazione è andata in scena a West End, quartiere residenziale di Francoforte sul meno, ed è stata la più grande mai vista in Germania dal 1945. 65.000 le persone, circa il 10% del totale della popolazione della città, che per precauzione sono state obbligate a lasciare le loro case, nell'attesa che gli artificieri avessero la meglio su un ordigno da quasi due tonnellate. Il problema non è solo togliere l'innesco, ma anche i detonatori, ma in questo caso tutto è andato molto bene, perché hanno fatto un lavoro fantastico. Per permettere che l'operazione si svolgesse nella massima sicurezza, le autorità hanno fatto evacuare gli abitanti in un raggio di un chilometro e mezzo, ma alcuni se la sono presa con tutta calma e il via al disinnesco è iniziato con due ore di ritardo. Per tutta la giornata, agenti di polizia hanno sorvegliato il quartiere, l'obiettivo era quello di evitare furti negli appartamenti o nei negozi. Le autorità comunali avevano messo a disposizione i padiglioni della fiera per le persone costrette a lasciare le proprie case. Su 7.000 attese però ne sono arrivate soltanto 300. La bomba era stata scoperta all'inizio della settimana in un cantiere edile.